E' normale che quando dicono arrestiamo vengono arrestate oppure indagate 50 persone poi mettono in evidenza le due persone che sono uno figlio del Ministro e l'altro figlio di Monocchio questo per attirare l'attenzione perché altrimenti ogni settimana, ogni mese c'è uno scandalo sulle tangenti non fa neanche... Ma insomma notizia la parola stessa veramente Fa notizia però non è una notizia così diciamo interessante Quindi è stato un po' enfatizzato Ma lei pensa che sia stata una cosa con cui cioè che è per via del cognome che hanno indagato suo figlio? No, no, il figlio è indagato perché lui è responsabile della società di progettazione che fa l'opera e a un certo punto la società di progettazione viene confusa invece con la direzione lavori Allora ho tenuto a precisare che è un conto della direzione lavori e quindi Monocchio e i suoi collaboratori sono quelli che poi hanno sospeso questo di Michele che è un conto e sono i progettisti che è una cosa completamente diversa Perché lei dice che non le piacciono? Lei ha detto al Corriere della Sera ha detto No, sul D'Altono non siamo molto in sintonia con il gruppo di Monocchio Lei risponde No, assolutamente anzi non mi sono mai piaciuti hanno già incassi alti dai lavori ma sono sempre in cerca di altre fonti di guadagno Sì, no, a me non piace la categoria della direzione lavori cioè non tanto ha riterito a loro in particolare perché la categoria della direzione lavori è una categoria che dovrebbe fare un mestiere delicatissimo importantissimo, cioè quello di controllare che le opere vengono fatte diciamo a regola d'arte e non lo fanno in genere Quindi De Michelis non lo faceva? Come? De Michelis interessava di fare evidentemente affari di affari in generale e non credo che lo facesse perché se è vero, non dipende da noi ma se è vero che il calcestruzzo è colla non so cosa è colla vuol dire che la direzione lavori ma evidentemente era diventato così potente che non siete stati capaci di agginarlo Un momento, perlò qui sta andando in onda Evidentemente ha trovato terreno fertile Allora c'è Sansa Sì, ma sta dicendo delle cose che insomma fanno Sansa